Oggi è un giorno di intensa commozione. Dovrò cercare le parole. Perché questo ponte è figlio di una tragedia, di un lutto. E le tragedie, i lutti non si dimenticano, non si possono dimenticare. Si elaborano, si metabolizzano, ma restano imprigionati nelle nostre coscienze. Non c'è niente da fare. Diventano l'essenza stessa di quello che noi saremo. Ecco, qui in questo posto ci siamo tutti smarriti due anni fa, nello sgomento di questa tragedia. E qui oggi ci ritroviamo. Ci ritroviamo anche per un'altra ragione. Ci ritroviamo anche per ringraziare chi ha costruito questo ponte. L'energia che ci ha messo. Con rapidità, ma senza fretta. Io ho contribuito, ho dato un'idea. Sì, l'idea di un ponte che attraversi piano piano la valle, così, passo per passo. In silenzio, quasi chiedendo il permesso. Un ponte che sia come una nave, un grande vascello bianco che attraversa la valle. Beh, però poi bisognava farlo, questo ponte. Abbiamo avuto più di mille persone. Dei commissari fino ai più modesti manuali. E' stato straordinario. Questo è stato il più bel cantiere che abbia avuto in vita mia. Straordinario. Semplicemente straordinario. Per questo dobbiamo riconoscenza a tutti. E quando si è alla fine di una grande fatica, ciascuno di noi si aspetta una piccola perla come premio. Ecco, questa piccola perla sia la riconoscenza. E' così per questa ragione così drammatica questa giornata. Perché siamo sospesi tutti quanti. Siamo sospesi tra il cordoglio di quella tragedia e l'orgoglio di aver ricostruito il ponte. E non sappiamo più che pesci prendere. Noi genovesi, poi che siamo un po' così, un po' selvatici, lo sapete, restiamo zitti, in silenzio. Ma si fa per dire. Più o meno, in silenzio. Però c'è una cosa che voglio dirvi. Che si è parlato di un miracolo. Ma io non credo che si debba parlare di miracoli. Lasciamo in pace i miracoli. Non c'è stato nessun miracolo. Semplicemente qui è successa una cosa bellissima. Che il Paese ha mostrato una parte buona. C'è stata una grande competenza, c'è stata una grande energia, una grande generosità. Non ho mai visto uno lamentarsi. Questa è stata la cosa importante che è successo qui. Grazie. Grazie.